Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Alberto. Ciao ragazzi, buongiorno Ivan, buongiorno a tutti, buon inizio settimana a tutti. Come va? Esatto, bene, bene, tutto bene, tutto bene. Vai, oggi ci buttiamo a capofitto nell'analisi. Bravo, tra l'altro non avevamo neanche in programma di girare un video questa mattina, però in effetti nel weekend sono accadute un po' di cose, avevamo fatto un'analisi sabato e quindi mi sembra giusto comunque ripartire poi inizio settimana con una visione d'insieme sul mercato. Tra l'altro avevo scritto anche sul gruppo Facebook e sulla chat Telegram double top o pronto a sfondare i 10.000, il tetto dei 10.000, andiamola a vedere perché... Questa mi aggancio qua Alberto, se ti interrompo, giusto per ricordare sempre che la nostra chiacchierata mattutina non ha lo scopo di dirvi che cosa dovete e che cosa non dovete fare, ma semplicemente noi condividiamo per chi vuole prendere queste idee e poi prendere assolutamente le decisioni in proprio e allo stesso tempo ci ricorda Alberto che l'analisi che viene fatta diariamente, settimanalmente, può modificarsi in base al price action, quindi a dove poi il bitcoin in questo caso o l'asset che avete scelto si sposta. Una delle cose che noi abbiamo imparato nella nostra esperienza è mai fissare e dire ok, da qui va giù e da qua va giù, da qui va su e da qua va su. Bisogna sempre leggere costantemente il grafico e pochi cambi possono anche dare segnali di un cambio di direzione, quindi ecco perché quest'analisi cercheremo di farla più spesso possibile per dare un'analisi ovvio, se facciamo un'analisi di settimana scorsa oggi ahimè è vecchia perché come dice Alberto tante cose sono successe nel weekend, vai! Bravo, ecco perché molto probabilmente l'andremo a fare anche tutti i giorni, adesso stiamo sincronizzando un po' di costi, stiamo creando contenuti, materiale gratuito e per i vari corsi, ma appena siamo meglio sincronizzati molto probabilmente lo facciamo tutti i giorni anche perché è quello che facciamo noi quotidianamente, quindi perché no, ci piace condividere. Voglio aggiungere quello che hai detto, primo i nostri non sono consigli finanziari, quindi ribadisco quello che ha detto Ivan, altra cosa importante, nessuno, e ti dico nessuno può prevedere il mercato, noi ci proviamo, tutti ci provano, ma nessuno può prevedere il mercato, fondamentalmente né io né Ivan né i più grandi guru esperti di trading al mondo sanno se il bitcoin oggi andrà su, o domani, o tra una settimana, o andrà giù. Possiamo fare delle valutazioni, delle analisi, che come ha detto Ivan, di giorno per giorno, giorno per giorno possono cambiare. Le cose fondamentali, segnati questa perla, ma poi ne parleremo in contenuti gratuiti, in corsi, la cosa fondamentale non è tanto il momento di ingresso e il momento di uscita, anche questi sono importanti, ma la cosa più fondamentale di tutti nel trading è il money management, la gestione del rischio e la gestione del tuo capitale. Questa è l'unica, è la cosa che devi mettere al numero uno. Tutti ti venderanno, ti proporranno, timing the market, cioè sapere quando è il momento giusto. Anche noi ci proviamo perché alla fine ci piace, ma sono semplicemente valutazioni e intuizioni. Money management is what save your house, è quello che ti salverà la vita. In parole povere, se vuoi continuare a fare trading, impara a gestire i tuoi soldi. Se no, in tempo breve ti trovi senza capitali, non puoi più fare trading. E noi l'abbiamo, lo stiamo imparando sulla nostra pelle, perché gli errori li abbiamo fatti tutti. Ti garantisco, li abbiamo fatti tutti. Intanto che prendevi il traffico, volevo proprio condividere questa cosa oggi. Uno, ho commesso un errore e l'ho commesso proprio nel weekend, nella settimana, e Alberto mi aveva anche avvisato di questo. Settimana scorsa ho deciso di aprire uno short su Ethereum e Alberto mi disse immediatamente Oh, Stephen, forse l'hai fatto un po' troppo presto. Ti ricordi, Albi, che me l'hai detto? E ostinato che Ethereum, visto gli ultimi tre mesi dell'andamento, continuasse a perdere nei confronti di Bitcoin, ho aggiunto, prima del weekend, quindi ho aggiunto delle quantità in short, e questa notte sono stato liquidato. Perché? Perché non ho voluto a tutti gli effetti guardare la parte tecnica, ma ho ascoltato solamente quello che io volevo fare. Quindi questo è un piccolo consiglio che vi cercheremo di trasmettere nel tempo e ti cercheremo di trasmettere nel tempo. Prima di fare qualsiasi operazione o di agire così di impulso, pensaci un paio di volte, perché la maggior parte delle volte che si agisce di impulso si rimane fregato. Ovvio, per fortuna che io uso Stop Loss e Take Profit, quindi metto io al limite di quello che si vuole perdere, però questa notte sono stato liquidato. Bravissimo, giusto. E purtroppo, perché ovviamente sarebbe stato molto più bello averci preso e averci guadagnato. Però i trading sono così. Bravo, esatto. Il trade è questo. Però come vedi, anche noi commettiamo errori, facciamo errori, fanno parte di una gestione del rischio, li ammettiamo, perché solamente essendo veri e sinceri, secondo me si può andare avanti. Stessa cosa ho fatto anch'io. Io ieri sera ho aperto uno short, facciamo le confessioni del lunedì mattina, ho aperto uno short sulla valutazione che ho fatto prima di andare a letto e soprattutto su una mia bias. Le bias, poi lo affronteremo mani andiamo avanti, è un termine inglese molto usato nel trading che sta a indicare credenza, sta a indicare... Aspetta, aiutami, non è il termine giusto. Convinzione. Convinzione intrinseca o convinzione interiore. Cioè se io sono... E ti dico, questo è il peggior nemico del trader, le proprie bias. Perché se io sono convinto interiormente che il mercato andrà giù, e faccio la mia analisi, inconsciamente il mio cervello andrà a captare, anche se vedo segnali che mi dicono no, guarda che il mercato sta per andare su. Se quella è la mia credenza, andrò a dare più peso ai segnali che mi fanno andare... che mi fanno pensare che vada giù, che non quelli che fanno pensare che vada su. E questo, a volte, è un po' come avere un paraocchi. Quindi una delle cose... Anche qua un'altra perla nelle cose fondamentali è capire dentro di sé quali sono le proprie convinzioni interiori e imparare a gestirle. In realtà il trading è una sorta di introspezione interiore, di analisi interiore, è anche un percorso di crescita, è proprio un'analisi psicologica. Assolutamente. Ok, dai, torniamo a bomba noi. Ah, dicevo, ho aperto uno short, quindi un trade short ieri sera, insomma fatto con criterio, rischiando pochissimo del capitale, quindi stavo nel money management, però se vogliamo è stato un po' presto entrare short ieri sera e vediamo anche perché. Allora, veniamo a noi. Double top. Qui si è formato un double top, come vedi qua, dove sto puntando, in realtà si era già formato nei giorni precedenti e adesso ha fatto un round bottom qui. Uso un po' di termini inglesi, ma sono termini tecnici del trading, così ti abitui se non li conosci. Round bottom che fa parte anche di un handle and cap, cioè di una cap and handle, cioè tazza con manico, è una cosa estremamente bullish, è una formazione super bullish. Però, se andiamo a vedere tra qua e qua, ma adesso l'ha ritoccato qui, abbiamo comunque un double top, cioè un doppio massimo, un doppio alto, e guarda caso il secondo top è più basso del primo, in questo momento, quindi è comunque una formazione geometrica, una formazione, una figura bearish, cioè che ci fa attendere un possibile storno del prezzo del bitcoin, quindi ribascio. Però c'è anche da dire che c'è questa cap and handle, cioè tassina col manico, che è bullish. quindi chi avrà ragione, tassina col manico o double top? Come dicevo prima, nessuno può provvedere il mercato, chi te lo dice, ti sta raccontando delle fandonie, ci si può semplicemente provare e fare delle valutazioni. Andiamo a vedere le varie conferme che ci arrivano. Ecco perché dicevo, ieri sera fare quello short è stato un pochettino da parte mia un po' azzardato. Ok, andiamo a vedere invece a livello di supporti e resistenze come ci stiamo comportando in questo momento. Allora, noi ci spostiamo di qua. Facciamo sempre una valutazione, una valutazione, invece mi metto in alto. Ecco, volevo vedere che non ho visto, scusa Albi, la chiusura, la chiusura della settimana. Bravo, bravo, bravo. Fondamentale proprio andare a vedere, il grafico settimanale, quindi un time frame molto alto, perché oggi lunedì, ieri sera chiusura, per quello che riguarda il bitcoin, della candela settimanale. Eccola qua. Un bel candelone verde, settimana scorsa, e ha chiuso, vedi la chiusura è questa, circa 9000, anzi, andiamola a leggere, facciamo le cose fatte bene. Eccola qua sopra. Andiamola a leggere. Qui, ieri sera ha chiuso a 9665.70. Lo leggi da qua sopra. Leggermente sopra, 9000? 9665.7. La chiusura di ieri ha messa al... Su Bitstamp, qui il grafico che uso io è, prendi l'analisi Bitstamp come exchange. Leggermente sopra, la linea di resistenza settimanale che ho tracciato a 9500.72. Quindi, potenzialmente, un segnale positivo, bull. Positivo. Sì, e difatti adesso è cresciuta in mattinata, da quando ha chiuso ieri, diciamo, siamo in crescita. Quindi diciamo, sul time frame settimanale, siamo bull. Cioè, siamo rialzisti. Andiamo a vedere sul daily. Sul daily. Eccolo. Già un pochino. Anzi, ci abbassiamo qua, così da centrarlo. Ok. Allora. Sul daily, ieri abbiamo chiuso sopra un bel supporto importante che è quello settimanale, che di fatti conferma quello che abbiamo visto prima nel grafico. Il, scusami, non supporto, resistenza. Resistenza. Che adesso, che adesso fa da supporto. Mentre la resistenza daily a 10.026, che è super, super importante, perché se sfonda questa, al di là di un possibile pescaggio di liquidità come trappola, se sfonda questa, c'è poco da dire. Cioè, bitcoin è bullish, cioè parte. Se sfonda i 10.000 dollari, va su, va su. E soprattutto, Soprattutto Alvis, Scusa, Scusa Ivan, scusate che ti interrompo. Allora, noi adesso stiamo parlando di un time frame, cioè di una visione di mercato a breve. Io mi dichiaro per quel che è il bitcoin, super bullish su un medio-lungo periodo. Quindi, se mi senti parlare di bearish, bullish, in questo momento stiamo parlando a breve. Sono sicurissimo che da qui al prossimo anno avrà sfondato i 10.000 dollari e chissà quanto. Magari anche 50.000, 100.000 o questo lo vedremo. Adesso stiamo parlando prossimi giorni barra settimana. Scusa Ivan, te l'ho interrotto. No, no, dicevo solamente io condivido condivido con te quello che hai appena detto quindi hyper bullish va già di conseguenza che quando parliamo di bearish è sempre nel breve periodo. Però una cosa importante per quanto riguarda resistenze e supporti visto che stiamo parlando di daily è la chiusura daily. Quindi se la sponda per poi chiuderci sotto a fine giornata ha un senso. Se la sponda per chiuderci sopra e rimanere sopra questo supporto questa resistenza che diventerà poi supporto ha un'altra visione. Esatto. Difatti per seguire quello che hai appena detto se la giornata di oggi quindi candela giornaliera mi chiude sopra questa linea supporto resistenza che adesso in questo momento è diventata supporto il segnale è molto buono cioè le possibilità sono di quantomeno di rimanere qua a fare accumulo per capire se prendere forza e sfondare o andare a ricorreggere ecco voglio fermarti un'altra volta ecco vedi stai iniziando a diventare rosso no no fai bene tanto andiamo a mettere anche il volume può essere che adesso la linea ascendente che tu hai tracciato dove si è appoggiato in diverse che riparte poi da marzo e la linea quella rossa discendente che tu hai lì siamo arrivati a un punto dove deve prendere una decisione sì ci sta o va sopra o o vieni giù nel senso è arrivato a un punto dove deve prendere una decisione BTC ci sta se sfonda quella linea verso il basso si aprono scenari se la sfonda verso l'alto l'abbiamo già detto lo scenario è sicuramente verso l'alto sì sì ci sta però siamo proprio siamo proprio lì nell'angolino quindi deve essere una cosa di questi giorni sì sì ma infatti secondo me in questi giorni ci saranno dei fuochi d'artificio o in alto o in basso assolutamente sì ah c'è da dire un'altra roba allora prezzo del BTC in questo momento a 9000 in questo momento è 9,689 esatto 9,689 una considerazione super si è speculato tantissimo su questa cosa e non c'è una conferma tecnica vera e propria dal fatto che dia conferma questo ma se ne andiamo a vedere il eccolo qua Bitcoin CME Future che nel fine settimana chiude e quindi forma dei gap io non lo andiamo a prendere allora 9.845 ah scusa questo è il daily andiamo sul grafico a 4 ore eccolo qua si è formato un gap tra il massimo che è 9.570 e 9.660 effettivamente tra qua e qua c'è un gap perché CME Future è trattato solamente dal lunedì al venerdì come la maggior parte dei futures mentre il prezzo del Bitcoin sui vari exchange comunque è trattato H24 7 su 7 solitamente questi gap che siano in salita o in discesa in un certo periodo di tempo a volte in un giorno a volte in tre giorni a volte in qualche settimana vengono chiusi cosa vuol dire per chiuderli se adesso il prezzo CME Future 9.845 andrà comunque quantomeno a ritoccare 9.570 non è una legge matematica tecnica ma abbiamo visto 9 volte su 10 questo è accaduto ok tornando qua sembra che già ci stia tentando in questo momento e di fatti bravo bravo di fatti guardando il grafico a 4 ore a 4 ore sta già iniziando a ritracciare quindi morale della faccenda sfonderai 10.000 o questa è una double top formation e andrà verso il basso solamente le prossime ore i prossimi giorni ce lo diranno di fatti in questo momento tecnicamente per me è più una no trading area nonostante ho aperto uno shot ieri sera ma ripeto l'ho fatto in totale gestione del rischio con un porto piccolissimo quindi è quasi una scommessina che non che non un vero e proprio ingresso tecnico dove invece un ingresso tecnico più intelligente può essere al di sopra di questa di questa linea cioè se la sfonda qui c'è veramente diventa veramente un buon segnale per entrare long se invece mi sfonda questa questa weekly o addirittura per stare ancora più tranquilli questa questa trend line dinamica allora ci sono grosse possibilità come dicevo sabato che il prezzo venga attratto verso questo supporto qua di 8.500 che è l'altro daily esatto che è l'altro supporto daily quindi tecnicamente questa è la situazione quello che accadrà lo possiamo vedere solamente nelle prossime ore esatto perfetto dai cose da aggiungere ah certo cose da aggiungere i channel i channel i channel bravo perché si 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 allora eccoci qua a livello di channel sul bitcoin nel weekend si è formato un channel ascendente che ha rotto proprio ieri sera ecco anche perché sono entrato short mi ricordavo che c'era c'era qualcosa che me l'ha fatto pensare c'è stata una piccola rottura guarda caso ho fatto rottura del canale verso il basso retouch cioè ritocco della parte bassa del canale guarda come guarda dove vai eccolo e adesso sta in diretta si in diretta in diretta quindi conferma che questa strategia dei channel è interessante mi sta mi sta funzionando quindi mi sta dando ragione allo short che ho fatto ieri sera si è appoggiata al weekly adesso guardalo 9456 bello lo vediamo in diretta che sta calando attenzione non è detto che vada giù perché ci mette un attimo a ritracciare siamo in una candela 4 ore dove la chiusura della candela sarà alle ore 14 con apertura della successiva se mi rimane una candela così o mi va ancora più giù da qui alle 14 è un bel segnalino di potenziale short da mettere sì ottimo e lo short che ho in piedi ti dico anche probabilmente devo un attimo analizzarmelo con calma me lo vado a chiudere in prossimità del supporto quindi poco poco prima per adesso gli stiamo svelando troppe cose ragazzi troppe cose siamo così sugli 8600 8600 sì 8600 mi potrei già accontentare adesso non ce l'ho sott'occhio ma sarebbe un'ottima percentuale di rendimento ottima molto ottima comunque dai dita incrociate vediamo ma come abbiamo detto può andare bene come no stiamo a vedere dai siamo curiosi di vedere cosa accadrà ok ragazzi buona giornata a tutti grazie per seguirci se ti è piaciuto il video lasciaci un bel like sottoscriviti al canale per non perderti neanche una delle nostre analisi grazie Alberto per il tempo grazie a te Ivan grazie a tutti voi ci aggiorniamo ci teniamo a giorni nei prossimi giorni ciao ragazzi ciao buona giornata ciao Ivan